Slitta di almeno sei mesi l'inizio dei lavori per la messa in sicurezza del viadotto ritiro, interventi già finanziati dalla Regione, contatto di progetto approvato e gara d'appalto giudicata alla Toto Costruzioni, ma il ricorso presentato alla CGA dalla Sicurbao, ditta seconda classificata, blocca al momento l'Iter. Il Consorzio Autostrade aveva annunciato la posa della prima pietra per il mese di luglio, si attende però la decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa che ha fissato l'udienza per il 23 settembre. La messa in sicurezza è necessaria e propedeutica anche al completamento dello svincolo di Giustra, inaugurato solo parzialmente nel maggio del 2012. Secondo il progetto redatto sulle indicazioni di Genio Civile e della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Messina, il viadotto realizzato 40 anni fa sarà in parte demolito per sostituire i piloni su cui si appoggia. La circolazione autostradale sulla A20 sarà comunque garantita da un bypass, scongiurata dunque alla chiusura, fissata in due anni la durata dei lavori, poco più di 43 milioni di euro il costo complessivo dell'operazione.